Radio Firenze Viola Tweet, Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Clima di Coppetali in casa Fiorentina Le dichiarazioni di Pezzella a proposito in un'intervista rilasciata alla Nazione Dobbiamo essere lì con la testa Loro sono una squadra forse e tosta, ma alla fine conto solo vincere, conteranno gli episodi Capitolo mercato Chiesa sempre obiettivo numero uno della Juve Ronaldo richiede investimenti importanti per puntare ancora una volta alla Champions E Federico è il primo dell'elizia di paradisi In entrata le richieste di Montella per la difesa Olaina da Storino esterno di proprietà Chelsea e Semprini dal Brescia Per Fiorentina1.com, Antonio Tedesco Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola